Il calcio è il tuo sogno? Non perdere questa occasione! Dai un calcio alla noia! Fai squadra con noi! Il tuo respiro, cara con me sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai, io ti ringrazierai! ASD Popoli Calcio, a sognare in grande, si comincia da piccoli! Entra anche tu a far parte della famiglia Bianca Azzurra, il Popoli Calcio sta aspettando te! Esperienza, qualità, organizzazione, ma soprattutto, tanto divertimento! ASD Popoli Calcio, da 100 anni, il team leader del settore! Ragione sportiva 2014-2015, guidata dai professionisti della Serie A, coordinatore tecnico Tonino Massino, preparatore dei portieri Gianluca Pacchiarozzi! Così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve e poi, la porca tua si accende un'altra volta! Agevolazioni per i non residenti e per il secondo figlio, ad ogni iscritto, uno splendido omaggio!